Messina in campo alle 15 al San Vito contro il Cosenza nella dodicesima giornata di Lega Pro. La squadra di Grassadonia chiamata al riscatto dopo la sconfitta con il Foggia sull'altro fronte. Silani a caccia di punti nella prima casalinga del tecnico Roselli. Sentiamo Alessandro Calleri. Il Messina scottato dall'ultimo KO casalingo con il Foggia cerca di ripartire subito al San Vito. Al confronto di Cosenza, squadra in campo alle ore 15, i giororossi arrivano in una migliore posizione di classifica con 5 lunghezze di vantaggio sui rivali, autori di un avvio di torneo al di sotto delle aspettative. Sul campo dei Rosso-Blu il Messina non vince però da lontano 1976. Nelle ultime stagioni, ad eccezione dello 0-0 maturato nel marzo scorso, è sempre uscito battuto. Questa volta non ci sarà in palio la promozione, ma la gara, una delle grandi classiche, conserva comunque il proprio fascino per le rispettive tifoserie. Senza Enrico Pepe d'Altobello, ancora fermi ai box per infortunio, Grassadoni è obbligato a riconfermare davanti a Giuliano. Il reparto arretrato, composto da Benvenga, Stefani, Silvestri e Donnarumma. In mezzo, certi di un posto, Bucolo e Damonte, mentre Nigro, recuperato ma non ancora al top, potrebbe lasciare spazio ad Izzillo, anche per i regolamenti legati all'età media. Vincenzo Pepe dovrà suggerire per le punte Orlando e Corona. Bielanovic però si candida a qualcosa in più di una semplice staffetta, dopo essere stato protagonista assoluto anche nella partitella infrasettimanale. Fuori dalla lista dei 18 convocati, Cane, Bonanno e Gaeta. Sull'altro fronte, debutto casalingo per il tecnico silano Roselli, che dopo aver rilevato in panchina Cappellacci, si è presentato con una sconfitta onorevole contro il Lecce. Per la prima al San Vito del nuovo allenatore, è prevedibile il varo del 4-3-1-2, con Blondette e Magli in difesa dopo un recupero Lampo. Ad agire da trequartista sarà invece Alessandro, chiamata a suggerire alle spalle delle punte Calderini e Cori. Si gioca domani al campo di Sperone con inizio alle 14.30 il derby dello stretto tra Amatori Messina e Rugby Reggio Calabria. Valido per la sesta giornata di Serie B. Il girone D giunge così al giro di Boa. I bianco-rossi, reduci dalla sospensione dell'incontro con l'amatori Catania, arrivano a questo punto con la rosa quasi al completo, dato i rientri di Tornesi e Cipriano. All'appello manca Cucinotta, out per un problema, ad un ginocchio. I gialloneri sono invece ultimi in graduatoria. E questa era l'ultima notizia. Il telegiornale termina qui. Grazie per averci seguito. Grazie per averci seguito.